siamo nel 56 come sapete protagonista del film è egno redattore dell'unità giornale del partito comunista italiano perché in italia c'erano i comunisti i comunisti non vivevano solo in russia azione poi faccio un film una volta ogni cinque anni deve essere sempre lo stesso se no poi va tutto male tua madre produce il film di un altro regista non va bene così è tutto diverso ma ti ha detto almeno come si chiama il suo ragazzo non aspettiamo suo figlio nello film da anni mi aspetto che giovanni cambi ora ha iniziato a girare un nuovo film quale scena d'amore questa è una scena in cui parlate di politica questo è un film d'amore azione scusate la scena che stai girando fa male al cinema lo capisci voglio lasciare giovanni ma non ne sono capace non ci riesco non è mai il momento notre rendezvous est confirmé chez netflix i nostri prodotti sono visti in 190 paesi 190 paesi 190 paesi comunque c'è un grosso problema in questo film manca un momento what the fuck la storia non si fa con il seno e chi l'ha detto io invece la voglio fare proprio con il seno la storia non si fa con il seno e chi l'ha detto allora ma questa cosa è un film d'accetto il questo film di un tempo che si chiama il seno